Buona serata, non ci posso fare niente se il mondo è così, intanto io mi lamento sempre da solo, passo il tempo così, ma non riesco a sopportare niente, è tutto brutto e mi fa ribrezzo, mo che volete da me, non è colpa mia, io non c'entro niente, intanto più si va avanti, peggio è, è una cosa schifosa e non c'è da lamentarsi perché non è che te la puoi prendere con qualcuno, è proprio il mondo che da solo va avanti, c'è il traffico, ci sono milioni di macchine e niente, l'inquinamento un altro poco non dipende manco da tutte queste fabbriche, ci sono miliardi di automezzi, è il sistema, è il petrolio, è tutto e non si può fare a meno di avere incubi, di lamentarsi, con chi te la prendi? Perché sono tutti, non è che siamo solo noi due o tre e quindi uno che deve fare? Deve solamente farsi una ragione, a cercare di capire, arrendersi, perché non è che uno può combattere, ci si arrende secondo voi nella vita, bisogna crescere i figli, bisogna avere una famiglia, bisogna cercare di avere i parenti, se no è finita, senza una famiglia uno cosa fa? Senza una famiglia dirella, all'orano, pancia in.